allora abbiamo trovato la nostra piantina se andate su youtube e andate in fondo vedete un video con questa maglietta qui una delle due e vedete una piantina molto piccolina beh la piantina quella piccolina che vedevate nel video con il fior è questa qui non ha più il cartellino non ha più il nastrino che ho messo ma è proprio lei ragazzi è cresciuta veramente cioè guardate come è diventato grande non abbiamo ancora capito che frutto fa però credo che lo scopriremo a questo stato guardate chi l'ha piantata l'ha piantata questo progetto qua che vedete nella maglietta non l'ho piantata io loro occupano di questa cosa qui nella pianta un mazzone salvaggio e oggi hanno tagliato un po' l'erba grazie a loro questa strada qua sarebbe piena di erbaccio quindi loro sono stati bravissimi gentilissimi a farci una stradina quindi io ringrazio loro siamo un canale youtube mi taggerò su youtube o anche su instagram comunque siamo qui la vista non è bella perché qua c'è una strada c'è una strada che si trova qui però comunque loro vengono qui guardano le piante e le occupano delle piante comunque ragazzi iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanella e di mettere un piaggio alla prossima ragazzi